Cento anni e non sentirli. La Callipo apre i festeggiamenti del centenario dell'azienda madre e lo fa mostrando la parte più giovane di se stessa. Protagonista assoluto, Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia, che il 14 gennaio del 1913 fondò l'impressa di conserve alimentari che cento anni dopo sarebbe diventata tra le più floride della Calabria e dell'Italia. Un secolo di storia, passione, lavoro, maestranze, sacrifici e sport. E già, perché i cento anni della Callipo conserve non possono che andare di pari passo con i fondamenti che proprio attraverso lo sport l'azienda del comprensorio di Maierato ha portato avanti puntando sulla aggregazione sociale come veicolo principale del proprio marchio, piuttosto che a sec campagne pubblicitarie. Callipo conserve è Volleyton Callipo, una torta con 100 più 20 candeline tutta da ripercorrere. Un connubio nato in un umido scantinato del vecchio palapace, arrivato fino all'Olimpo della pallavola italiana. La Serie 1, ancora il campionato più bello del mondo. Accanto a Giacinto Callipo, la responsabile delle attività del centenario, Anna Laura Orrico, ed il supervisore generale della Volley Callipo, Michele Ferraro, con il patron Pippo, accomodato tra il numeroso pubblico presente, accanto alla sua squadra. Ad aglietare il pubblico, con dei siparietti divertenti, le due mascotte, Leo e la new entry Tonnino, nato da un disegno di Giacinto Callipo II, padre di Pippo. Diverse le attività che accompagneranno le due realtà in questo 2013. La prima andrà in scena domenica, qualche istante prima del fischio di inizio del match che i giallorossi di Blengini affronteranno contro Cuglio. Un cambio di maglio ufficiale, presentato in anteprima proprio nella conferenza stampa del Pallavalentia. Il numero 100 è un veliero, da sempre segno caratterizzante del marchio Callipo. Ma domenica sarà anche il giorno del tutti al palazzetto, con l'ingresso unico ridotto al costo di 5 euro. Auguri Callipo!